Musli e cavalli anziani è un mix di cereali e crusca appetibile di facile masticazione anche per tutti quei soggetti che presentano la dentatura compromessa dall'età avanzata. Tra i suoi ingredienti troviamo orzo fioccato, orzo macinato, avena, mais fioccato e crusca. L'orzo è ricco di proteine, minerali, vitamine del gruppo B e fibre. Il mais fioccato contiene sali di potassio particolarmente utili per lo scambio di sodio a livello renale. L'avena bianca integrale è il cereale più nutriente ed energetico ricco di vitamina B1, grassi, ferro e lisina, un aminoacido fondamentale per la formazione e la struttura delle ossa. La crusca di frumento è particolarmente ricca di fibre che migliorano e garantiscono la regolarità intestinale. Musli e cavalli anziani è appositamente studiato per l'alimentazione dei soggetti più anziani, sia quelli già in pensione sia quelli che svolgono ancora attività. È particolarmente indicato per prevenirne il dimagrimento e il diperimento che dopo una certa età è una tendenza estremamente difficile da invertire. Il prodotto va somministrato leggermente inumidito. Vediamo come prepararlo. Preparare un pasto con musli e cavalli anziani è estremamente semplice. Avete bisogno di un secchio, la quantità ideale da somministrare al vostro cavallo, un po' d'acqua per inumidire il prodotto. Dopodiché lo mescolate rapidamente e potete immediatamente somministrarlo al cavallo. La dose quotidiana varia da 1 kg fino a 3 kg a seconda del tipo di attività che svolge il cavallo e può essere somministrato da solo o come integrazione alla normale razione alimentare se stiamo somministrando musli e cavalli anziani per aiutare un cavallo a riprendere peso. Musli e cavalli anziani è disponibile in sacchi da 10 kg di peso.